L'unica volta nella sua vita in cui ha scritto qualcosa con una calligrafia tremolante è stata questa, forte respiro rapido, scritta il giorno dopo la sua morte, quindi è come se avesse rubato un giorno in più alla sua vita. Già capiamo però l'intensità di questo racconto, abbiamo cominciato dalla fine ma adesso torniamo indietro, d'altro canto il sottotitolo del libro è La mia vita con Dinorisi, per noi è un monumento, Dinorisi ma per te è tuo papà, com'era tuo papà se ce lo dovessi descrivere? Infatti non c'è scritto La mia vita con mio papà ma c'è scritto La mia vita con Dinorisi perché da un certo punto in poi non è stato soltanto mio papà ma è stato anche il regista Dinorisi, quando ho scoperto che lui era un regista che non capivo bene neanche cosa volesse dire quando i compagni di scuola mi chiedevano ma tuo padre che mestiere fa? Io dicevo il regista vedeva sulle loro facce un'espressione anche un po' di ammirazione però poi mi dicevano ma che fa il regista? E io non è che sapessi dare una risposta precisa ma io gli dicevo poi insegna agli attori quello che devono fare, come si devono muore e loro lo capivano spiegato in questo modo? No neanche perché pensavano che gli attori fossero autonomi. Beh però i film li conoscevano no? I film di tuo papà Anzo? Beh all'epoca quando ero piccolino ancora non era diventato così famoso. Dopo il sorpasso diciamo che è un po' cambiato. Sì comunque è un film che ha segnato un po' un'epoca no? Anche il finale insomma no? Ma ieri vedevo una cosa per esempio in televisione perché parlava di Jim Morrison Jim Morrison dei Dors, aveva un insegnante di cinema a Los Angeles che era pazzo del sorpasso e anche Scorsese aveva un insegnante di cinema che era fissato col sorpasso addirittura era riuscito a dimostrare che il percorso che faceva la macchina formava un punto interrogativo. Eh pensa quante ce ne sono. Senti di tanti film si fanno dei remake no? Lo sappiamo. Ecco di questo si era detto forse no? Che si sarebbe potuto fare un remake un rifacimento magari anche diretto da te. Come la vedi? È possibile? No è una cosa difficilissima e soprattutto per me sarebbe una cosa un confronto siccome è sempre stato il problema un po' forse della mia vita no? Era meglio il padre sicuramente ma rimettersi su un'operazione del genere sarebbe stato veramente quasi suicida. Però però a un certo punto con l'insistenza di Cecchigori del caro Vittorio che su quel film stava puntando veramente tantissimo sul remake di quel film e che aveva capito che sarebbe dovuto essere completamente diverso da quello là ho cominciato a pensarci e avevo avuto anche una bella idea che non vi dirò per il finale. No ce la devi dire invece scusa facciamo lo scoop. No non posso dire. Come attori a che avevi pensato? Come attori avevo pensato a Favino e Marinelli. Insomma una bella coppia. Che mi sembra una bella coppia.